Operai in azione questa mattina in via dello Sport a Favara per rimuovere l'enorme massa di rifiuti che da diverso tempo forma una maxi di scarica abusiva nella zona periferica della città. Nella strada che collega lo stadio comunale Giovanni Bruccoleri a Contradapioppo la situazione rifiuti si era decisamente aggravata. Grazie all'istangabile lavoro del responsabile del servizio Giuseppe Bullara, coadiuvato da tre operai, di cui uno contrattore e due operatori ecologici sono riusciti a ripulire dall'enorme quantitativo di spazzatura tutta l'area. Un lavoro partito alle prime luci della mattina per concludersi intorno alle ore 12. È stato riempito un grande compattatore che domani, giorno in cui è prevista l'indifferenziata, scaricherà a Siculiana. Purtroppo quella di abbandonare rifiuti strada è una pratica comune a molti incivili. Non si rendono conto che, oltre ad arrecare un danno economico per via delle spese di rimozione dei rifiuti e bonifica dell'area, creano danni alla salute, all'ambiente e all'immagine della città. Da oggi si vuol ripartire in via dello sport. È stato dato un segnale. La speranza è che gli sforzi compiuti dagli operatori non restino tali.